Il cammello e il dromedario di Alessandra Taccone Un giorno al mercato il cammello incontrò il dromedario, lo guardò e si mise a ridere di gusto. Uè amico, ma come fai ad andare in giro con una gobba sola? Il dromedario si stupì. È normale avere una gobba sola, tu piuttosto non ti vergogni di averne due. La discussione proseguì su questi toni, fino a che la tartaruga, anziana e piena di esperienza, non suggerì loro di rimettere la questione al grande saggio che viveva sulla montagna. I due acconsentirono e si misero in viaggio. La conversazione fra loro era piacevole. Cammello e dromedario avevano parecchi interessi in comune, ma andavano d'accordo solo fino a che non affrontavano l'argomento gobbe. Al solo accenno si rabbuiavano e si offendevano. Uè ma guarda che sei ridicolo ad avere una gobba sola eh! Ma no eh! Sei te che sei ridicolo ad averne due! Ma pensa te! Cosa te ne fai di due? Uè e te cosa te ne fai di una sola? Insomma, non ne potevano proprio parlare. Quando arrivarono di fronte alla grotta del grande saggio, videro altri animali in attesa, quasi tutti a coppie. In coda, proprio davanti a loro, c'erano l'alpaca e il lama. Uè, come mai siete qui? Chiese il cammello. Noi siamo molto diversi, disse il lama. Ma ci scambiano l'uno per l'altro e vorremmo capire perché. Vedete, io sono più alto, più bello, non vi pare? E fece un mezzo giro su se stesso. L'alpaca lo guardò con una smorfia. Sarai anche alto, ma resti ruvido, ruvido, ruvido come uno straccio, mentre io ho un pelo morbidissimo. Il dromedario e il cammello erano perplessi. In effetti non era facile distinguerli quei due. E anche le altre coppie di animali in fila erano molto simili tra loro. Il lupo e il coyote, la procavia e la marmotta, il lemore e il suricato, la faina e la donnola e via di seguito. Uè, ognuno vede nel compagno differenze enormi. E però gli occhi degli altri sono ben poca cosa, eh? Sì, e poi litigano per nulla. Come può una piccola caratteristica fisica determinare chi sia più bello, in gamba intelligente? Si guardarono e di colpo capirono che anche loro avevano fatto lo stesso errore. Decisero allora che era inutile attendere il verdetto del grande saggio e tornarono in città da buoni amici. Ognuno fiero del suo numero di gobbe, ma tollerante, verso quelle dell'altro. Uè, abbiamo fatto la strada inutilmente per metterci in coda con quegli altri tonti. Comunque, se ti piace avere una gobba sola, fai te. Tanto sei simpatico lo stesso. Sì, e io non capisco cosa te ne fai di due, ma comunque sono affari tuoi. Dai, andiamo a bere qualcosa alla locanda. Offro io. Uè, bravo. Dai, andiamo. Mi è piaciuta questa storia? Allora, continuate a seguirci. Trovate i nostri libri e i nostri contenuti speciali su www.favolandialibri.it Ciao, a presto! Ciao, a presto!